Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. 6-1-0, imprenditati a promigliette da Lecce e diretto a Bologna Centrale ed è ora 15.34 e in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma, arrivi, presenta, fornì, paenza. Benziana, Intuocity, train 6-1-0 from Blitz, to Bologna Centrale. Web schedule, departure 3.34 pm, is now arriving, delaying at platform 1. Please, can we drive? Vitação Docella Maguire, departa 19 hostiladult統. Jogging it up. Il Trenitalia, proveniente da Lecce e divento a Bologna Centrale, l'anteriore 15.34 è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione, allostanarsi dalla linea gialla, ferma a Rimini, Cesena, Forlì, Faenza. L'anteriore 15.34 è in arrivo in ritardo a Bologna Centrale, a Bologna Centrale, dove si affermano un pollo di inverno e far fuori. Grazie a tutti